1, 2, 3, 1 Capito? Avete la mano proprio sotto il mio culo? Sì, sì, va bene! Era una sua turba dal nome scientifico di Ventilazio, Intestinalis Potlens La sente l'aria che arriva? No! Eh, macho, me estoy pisando tol dia al pantalon, eh! Anzi no! Sì, come in galera non c'è sta Sì, come in